Per me il riciclaggio è tutto perché posso usare un materiale molte volte, quindi quello che una volta è un oggetto di carta, un portafoglio, può diventare in futuro una lampada o qualcos'altro, quindi riutilizzare vari materiali più volte. Come le scatole del latte, gomme e persino gli interni delle auto, tutto riprende vita grazie alla fantasia di Julian che a Sofia crea accessori singolari. Lavoro con quattro ragazze che cuciono i portafogli e poi con altri due ragazzi che si occupano del materiale di plastica. Così nasce Zona Urban, lo stesso nome dell'area in Bulgaria dove si effettua il riciclo e questo non poteva che identificare il marchio di Julian. Fumetti, spartiti musicali o mappe della città, le stampe sorprendono sempre chi le acquista. Per esempio una ragazza ci ha mandato una sua foto nella metropolitana col portafogli in cui leggeva il giornalino della vecchia Unione Sovietica. Ho sempre avuto il sogno di avere un furgoncino della Volkswagen, nel frattempo che non ce l'ho e non me lo posso permettere perché devo vendere più o meno 3.000 di queste borse per potermelo permettere. Intanto produco queste borse con un sogno di viaggiare per il sud dell'Europa su un furgoncino un giorno. 3.000 di queste borse e poi compro il bus. Grazie a tutti